Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un video dedicato alla nuova collezione di Kiko che si chiama Green Me che mi è piaciuta veramente tantissimo, tanto che sono andata più volte in negozio e ogni volta ho acquistato qualche cosa. Mi hanno regalato questa bellissima pochette, mi piace veramente tanto, fatta così, qui c'è la scritta Kiko da questa parte la scritta, il nome della collezione, questo è il tiracerniera con questa nappina così in tessuto ed è una pochette veramente molto capiente che trovo un omaggio veramente molto 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 carino e mi è piaciuto molto. Allora la prima cosa che ho acquistato di questa collezione è stata la BB Cream questa qui, questa è la confezione in cui viene venduta, fatta in cartone riciclato che trovo veramente molto molto carina questa è la confezione della BB Cream. La cosa che mi piace di questa collezione è che non è biologica però gli ingredienti utilizzati per questi prodotti sono il più possibile naturali e quindi questa cosa mi è piaciuta molto anche se ho sentito che la BB Cream non mi ricordo, in qualche video ho sentito che dicevano che l'inci della BB Cream non è proprio buonissimo io onestamente questo è l'inci, non so se si vede, io sinceramente di inci non ci capisco niente mi fido quando viene detto che è naturale e quando vengono utilizzati prodotti naturali io mi fido quindi non sono... dunque qui c'è scritto crema colorata dall'effetto naturale e dalle proprietà nutrienti e formula... non si legge... vabbè comunque questo l'ho usato un paio di volte, il tappo è in legno c'è 25 ml, ci sono 25 ml di prodotto, questa è la colorazione e io ho preso la colorazione 01 Porcelain perché le altre mi sono sembrate un pochino scure la texture mi piace moltissimo effettivamente è una crema colorata è come mettere una crema colorata se non si hanno grosse discromie se la pelle del viso comunque è abbastanza a posto secondo me come alternativa al fondotinta è un buon prodotto e sinceramente mi piace moltissimo questa è la BB Cream i prezzi non me li ricordo però ho trovato che i prezzi di questa collezione non fossero così... nel senso che sono abbordabilissimi e quindi mi è piaciuta molto questo è il primo prodotto che ho preso poi ho preso questo qui che si chiama Grimmy Lips & Cheek questa è la confezione io ho preso la colorazione 02 Rosewood e la colorazione 03 Mauve Pulse che è quella che indosso io l'ho messo questa mattina ho anche pranzato e devo dire che non è bello come appena applicato però comunque mi sembra che regga bene è molto confortevole non dà nessunissimo fastidio e mi piace moltissimo questo è il matitone che ho applicato e onestamente me lo aspettavo è una matita rossetto e fard come fard non credo che la utilizzerò mai non mi piacciono questi prodotti labbra e guance preferisco utilizzarlo solo per le labbra onestamente me lo aspettavo un po' più grande invece è abbastanza piccolo come prodotto però è assolutamente ottimo questa è la colorazione vediamo se ecco così forse si vede meglio e l'altra colorazione che ho preso che ancora non ho mai utilizzato è questa qui che mi piace veramente moltissimo molto bella questa colorazione che però ancora non ho utilizzato di questa della 03 devo dire ottima impressione e se anche la 02 è della stessa qualità sono molto soddisfatta del mio acquisto poi all'interno della confezione c'è un temperone fatto così ha qui anche l'attrezzino per ripulire la lama dopo l'utilizzo e ogni matitone ha il suo temperino proprio nella confezione cosa che è ottima perché comunque è un po' fuori forma diciamo allora all'interno di questo rossetto ci sono 3,94 grammi quindi anche se sembra così piccino insomma di prodotto ce n'è e quindi per utilizzarlo insomma si può utilizzare tranquillamente allora rimettiamo questo nella sua scatolina ecco qua e questi sono i rossetti che ho preso poi 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 ho preso questa qui che è la grimmie e shadow palette questa qui io ho preso la colorazione 02 festi saffron questa questa colorazione qui allora di queste palettine ce ne sono due la 01 non mi è sembrata particolarmente scrivente e quindi l'ho lasciata lì mentre trovo veramente molto molto carina questa ha lo specchietto da questa parte si presenta così è veramente molto molto carina molto carino anche questo verde e questa è le colorazioni è un pochino polverosa come si può ben notare io la sto usando da diversi giorni e devo dire che anche il trucco che ho fatto oggi l'ho realizzato con questa palettina e devo dire che mi sta piacendo molto i colori più chiari non sono particolarmente scriventi però sono utilissimi per questi due colori qui dico questi due non sono scriventissimi però sono utilissimi per per sfumare e trovo che siano veramente comunque una palettina molto molto carina mi piace molto mi piacciono moltissimo questi colori centrali questi tre centrali secondo me sono veramente molto belli e comunque è mediamente scrivente non è una palette wow però è una palette che secondo me per un trucco quotidiano è veramente molto molto carina e questa mi è piaciuta molto la 01 non tanto non mi è piaciuta ma questa qui la 02 mi è piaciuta moltissimo poi ho preso questo qui il mascara la confezione del mascara eccolo qui è questo qui e questo è il mascara e il mascara è quello che ho che ho messo oggi e il mascara mi piace molto perché allora questo è lo scovolino fatto in questa maniera particolare è un po' liquido come primo utilizzo come primi utilizzi questo lo sto utilizzando da due tre giorni questo è il terzo giorno che lo utilizzo e devo dire che mi piace mi piace anche come si strucca e poi mi piace perché contiene degli ingredienti dei buoni ingredienti tra cui dunque avevo letto da qualche parte mascara effetto volume comunque dei prodotti no dei prodotti degli ingredienti nutrienti per le ciglia adesso in questo momento non mi ricordo ovviamente avrei potuto leggere prima di fare il video ma perché questa cosa e comunque questo prodotto mi sta piacendo moltissimo e mi piace il fatto che non si sgretola non non si scioglie con le lacrime e un pochino tendo a lacrimare anche se non l'ho mai messo sulle ciglia di sotto solo sulle ciglia superiori e regge tranquillamente tutto il giorno e mi piace non è un effetto wow questo mascara però comunque è un un effetto per per come si dice per un trucco quotidiano che non mi dispiace e quindi sono contenta di averlo preso e poi ho preso i blush li ho presi tutti e due uno è matt e l'altro è satinato e sono bellissimi questa è la confezione del blush 02 che è quello che ho messo oggi che è stupendo veramente stupendo questa è la confezione del blush anche questo ha lo specchietto da una parte e questa è la colorazione che è stupenda secondo me è veramente stupenda allora questi blush non sono pigmentatissimi nel senso che non sono di quei blush che quando uno li mette subito fanno effetto però eccolo qua io lo trovo bellissimo per sempre un make up quotidiano secondo me è molto bello si sfuma molto bene e dura tutto il giorno io ce l'ho da questa mattina non ho ritoccato nulla del trucco che ho fatto questa mattina e mi piace veramente tantissimo questo è lo 0 è lo 0 2 che si chiama coral vie questo colore qua questo mentre lo 0 1 questa è la confezione è uguale praticamente sempre si presenta sempre così e questa è la colorazione che è bellissimo anche questo io sinceramente non sapevo quale scegliere e li ho presi tutti e due e secondo me sono belli anche utilizzati insieme questo sotto e questo nella parte nella parte alta sono molto belli secondo me e poi ultima cosa che ho preso di questa collezione che mi è piaciuta veramente tantissimo è questo pennello con il manico in legno questa è la sezione e mi piace moltissimo per applicare il blush lo trovo proprio bello morbido però le setole sono abbastanza fitte da utilizzare da utile fitte e utili per poterlo utilizzare proprio con questi blush e l'ho utilizzato lo sto utilizzando con questi blush e secondo me è veramente molto molto carino e questa è la confezione del del pennello e mi è piaciuto molto quindi devo dire che questa collezione mi è piaciuta veramente tantissimo e ci sono anche altre cose che mi interessano e non escludo di prenderle in futuro e sono un balsamo per le labbra che mi interessa molto poi c'è uno no non mi ricordo se è uno scrub o un gommage per il corpo anche quello mi piace moltissimo con una bella confezione con il tappo di legno quello pure mi interessa molto poi ci sono delle maschere per il viso anche quelle però quelle non lo so non sono sicura che mi interessa lo scrub si mi interessa o gommage quello che è che non mi ricordo poi c'è un poi c'è una spugna tipo conchac poi c'è ah e poi ci sono delle terre ecco ecco in questa collezione secondo me manca una cipria mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse una cipria minerale l'avrei acquistata sicuramente e invece hanno fatto delle terre in polvere libera che onestamente non ho capito sono un prodotto che io sinceramente non non saprei utilizzare quindi si presentano molto bene sono molto belle con il tappo di legno il corpo in vetro molto molto belle però non non saprei utilizzarle quindi non ho proprio presa in considerazione e c'è un pennello molto bello grande da cipria diciamo e secondo me non è molto adatto per la terra quel pennello comunque lo vedrei bene per la cipria però insomma ce ne ho altri e quindi ho deciso di non prenderlo mentre questo per il blush secondo me è ottimo ma per qualsiasi tipo di blush in questo caso va benissimo per questo per questi blush che ho preso però non escludo di utilizzarlo anche con altri blush e poi c'è ah e poi c'è un un'acqua idratante per uno spray fissante per per il trucco e anche idratante però quello non non lo so forse con qualche promozione potrei pensare di acquistarlo perché ho quello di mac e con il quale mi trovo molto bene quindi non non mi va di acquistarne di acquistarlo però con una promozione potrei prenderlo in vista dell'estate da da spruzzare per rinfrescare e idratare il viso non sarebbe male quindi insomma questa collezione come si può ben immaginare mi è piaciuta moltissimo la trovo molto molto valida mi piace molto mi piace il packaging mi piacciono i prodotti e mi piace anche la qualità prezzo secondo me è un buon un buon binomio in questo caso sono stata molto contenta di acquistare queste cose e per ogni due prodotti acquistati viene data in omaggio questa pochette che trovo un omaggio veramente delizioso mi è piaciuto veramente moltissimo insomma per questo video è tutto spero di essere riuscita a mostrare tutto quanto al meglio spiegando che cosa mi ha entusiasmato di questa collezione per chi è capitato qui per casa e ha piacere di iscriversi al canale mi farebbe molto molto piacere grazie a tutti per aver visto il video e al prossimo ciao